Penso sia abominevole Non gli fai il minimo danno senza la botta Non che contro Malzare sia ottimo, ma quale serve un buon matchup per gli AP esattamente? Fai la maschera, poi go, la maschera si attiva sulle spell Non sugli autoattacchi, che è ciò che fa Irelia Tolta quella combo tipo E-WQ Allora, la mia assoluta speranza è che ovviamente facciano cagare Già vedo il jungler con il grasp e un pochino mi rincuora, ecco Vabbè, la botte delle cure Oddio Allora, dovremmo maxare W, c'è stato richiesto Di maxare W Basta succedendo Oh, vabbè Ok, ho capito Ciao Ma che serve stai tirata in testa? Non è così che funziona il tuo champion Vabbè Bella Ok Vedete, faccio più danni con gli autoattacchi che con l'altro Mi ha fatto ridere che tipo è scappato e poi è tornato tipo subito Ah, sta wave fa schifo ma lui c'ha il tp quindi non posso rimanere Non ha il tp, cioè non ha il flash lui Bene E E Stato stunnato Ops Ops Allora Dicevamo Ha flashato lui mi sa, vero? Sì Sì, sì Malzare ha ghostato e quest'altro ha flashato Molto molto bene E Allora Nationaltut Primo oggetto Ok Ok, meno male che è un cesso sto tizio Ok Sennò conire gli appivi contro Malzare la vedo un po' brutta Ok Quindi abbiamo detto Max W Però in effetti la sua passione mi dà un aiuto gigantesco Cazzo C'è la sua passione, la sua W Se lui tira la W posso saltargli addosso gratis Questa cosa non avevo pensato a questo, lo ammetto Se lui mi tira la W io posso letteralmente raggiungerlo saltando gratis Non può usarla contro di me Ok Molto bene Ho sbagliato Ho preso un pappa Ma che sei tutta sta roba qua Permesso No Ah Shit Non poto usare la cooper che mi ha slow Però ho preso la kill Quindi worth Qua è buono se mi tocca la wave In realtà sì, sì Sì, sì, sì Se me la manda sotto torre, sì Ce la fa? No? Ok, ok Dunque L'inizio è ottimo E abbiamo trovato un bel bidone contro Tunk Sì, devo dire Raga, devo ricredermi La sua W mi caria Mi caria La Nenim phase Perché io posso refullarmi Staccare subito la passiva Tunk Ok Il match up è facilissimo ragazzi Devo ricredermi Oltre al fatto che è scarso il tizio Però il fatto che se usa la W Praticamente mi regala la vittoria È incredibile Penso sia non ironicamente il miglior match up Che poteva uscirmi Il supermerc non lo sta capendo Ho capito Un po' di vantaggio mi serve ragazzi Sto giocando i rally ap mid Con l'elettro cute Dai Subisa Ah, soraka No Maledetto Voleva scappare col suo ghost Non gliel'ho permesso Ok, ora che abbiamo Il Nashlarhut è in discesa Il tut Direi fast Pushiamo questa Andiamo back al volo Via La ulti scala a P Sì Ah, ma Irelia scala tutto a P Taran nella Q W e ulti Seconda direi che si maxa la E Anche perché Sti cazzi della Q Siamo Una magica Erelia Quindi dobbiamo andare Con la magia Come stanno andando gli altri? Top 1, 2 1, 0, 3 Giungle La botta sta vincendo Bene Lui prova a indurmi al silenzio Con la sua Q Ci prova Tonk Ma ho fatto poco danno Ok Non mi sembra molto contento Volibear Mi sembra un po' tiltato il ragazzo Voi che dite chat? Ah, rap mid Ah, perché non ha cliccato la ulti È probabile Un enemy ha stato slaino Tollo Non penso riuscire a salvarmi nessuno Non so se mi abbia ucciso Ma tanto ero morto a prescindere It's fine Andiamo di Shin Comunque ho visto che La ulti di Malzar non blocca la mia Quindi Cioè posso stare in ultica E continuare a caricare Volibear ha il grasp Sì, sì, sì Infatti era Prenunciavo una bella partita Al fatto che avesse il grasp Sei morto di Malzar Mi ha ucciso Non mi ha ucciso Volibear Sì, sicuro Sì, sicuro? Sì, sicuro? Guarda Ops Ecco Però subisco tanto danno Continuo a ramminare così Stiamo notando Ok Suoraka mi ha aiutato Con il problema Che palle sto Tra il silence e la sua passiva E' proprio una malattia venere a quel centro Ok Ci prendiamo un libricino Un shot in minor range con la Q da P Ehm E' perché applica comunque anche il danno del Nashor Tutto per dire Perché applica gli effetti un hit E comunque c'è la passiva Che Ok Scala a D però comunque fa tanto danno Quando sono a 5 stack E poi ci si mette anche la shin volendo Ho sbagliato target Non sono tutti appiccicati target Non riesco a tirare la Q bene Ok Bene Sta funzionando Però vorrei vedere su qualcun altro adesso Il Dovremmo provare a shottare la bot Ma prima continuiamo a fare un po' di kill qua Oh Arrivo baby Bo Boom Tonk Potevo usare la Q Eh beh Te lascio Te lascio Sono buono Eh sta Soraka Sembra sappia il fatto suo Ah la W continua Anche se mi silenzia Tonk Nooo Non ci credo Eh non potevo caricarla più di così Ci aveva Aveva ghostato Sta facendo quello E' venuto Nictus a Gragas Ah sta laggando Ok Ok Ah non è una cannon Push al volo questa allora No vedete Non gli shot Minion ranged Una Q e basta Non l'ho neanche maxato Non la sto neanche maxando Se no si Ce la farei Sì Ieri lì è uno Dette esempio Con la tenacia più alta del gioco Ora Una volta aveva La tenacia nella passiva Ora non so più come funzioni Perché Bono me Interesso più di tanto Eccomi Dritti con la schiena All'attacco Chiaro Ma riuscirà a scappare Vabbè Vabbè Ho capito Hanno fatto in me ciò che volevano Perché Suonire gli AP E quindi possono farlo Un po' un peccato 900 danni 900 danni mi ha fatto Caitlyn Stava a 0-3 Vabbè Quanto ne uso il tutorial di LOL A me Che cazzo ne so L'ultimo tutorial che ho fatto C'era Ash in Aram Troppo tempo fire Troppo 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 Oh però Questo game Non è molto emozionante Cioè Non sta succedendo Nulla di che A parte che io Vabbè Non posso far succedere Nulla di che Con i rally AP Di mio Però Oh È che è un game Che il mio team Sta abbastanza Stompando Probabilmente per quello E i game dove il team Stompa Sappiamo bene che Oh L'ho preso Tonk Guarda che Guarda guarda Lo sapevo Lo sapevo Ce l'aveva scritto in fronte Che sarebbe Che sarebbe Andato sulla ult C'è una nuova notifica Ops Non ho più spell Sono morto Non importa Oh Fermi tutti Ho parlato chiaramente Troppo presto Incredibile Mamma mia Mamma mia Ragazzi Che ambulanza Ok Il game è un po' Più emozionante Rispetto a prima Ma quello lì Non subisce danno Cioè Vabbè Do fuoco Così in par Vai Gragas Ma dove cazzo Me l'hai mandato Oh l'ho preso Ok Ok Troppo lontani Stanno Boom Ma guarda che danni Che si è fatta Dai non puoi non killarla Con quanti Ok Guarda Era così scontato Che sarebbe arrivata Addosso a me Vabbè Abbiamo punzecchiata Per bene Allora Più in mezzo HP di davanti Andiamo di Rabadon Direi Eh sì Perché Ricordiamo la chat Che la riduzione Del danno Che subisci Quando ottieni Premuto W Scala con la P Che di base È già alto Che va dal 40 Al 70% Più il 7% Della P Quindi più AP Buildi E più riduci Il danno Ora lo riduco Dell'88% Finito il Rabadon Sarà più del 90% Quindi non subisco Più danno Praticamente Tonk Non ci arrivavo Più in là Di così Che devo killare ancora Nessuno Andiamo top Da Chogat Lol Cioè Se è suicidato Per prendere la torre Per poi non prenderla Vabbè Che cazzo Sta tippando Vabbè Quell'altro Che volete che sia Tunk Chi poteva mai essere Occhio che se mi prende La malattia C'è ancora La malattia che gira Il covid Guarda Guarda Quindi delle dime L'han chiesta Mi pare di sì Ok Abbiamo Leggo scritto Che riduco i danni Il 99% Non so se è un bug Ma mi sembra Tanto 99% Cioè mi sembra Mi sembra Tanto Il suo asse L'ha fatto Zero danni Ma c'è ancora Una torre qua What Come ne ero accorta Un autoattacco Contenti voi No Di pochissimo Scusa Abbiamo ucciso Perché 500 danni Io penso Ad avere il 500 Di vita Vabbè Tanto Non ho mai già Sti cazzi Che ci buildiamo Adesso Fammi vedere Un po' Le loro build Allora Vedo un po' Di Di resistenza magica Però c'è La mia W Fa danni fisici E sti cazzi E vero Magic Pen Cioè C'ho Gat Sti cazzi Potremmo andare Di Zonia Allo Zonia Sembra interessante L'abbiamo P E il problema Qual è Che Magic Damage Critta La W Però Fa danno fisico Ragazzi Vi ricordo Quindi La mia W Che è la spell Che fa più danni Non Non sinergizza Ricordiamo La W Fa danno fisico Quindi Secondo me Non è tutto Sto granché Capito Golden Irelia Certo Riduco Del 105% Che mi curano Vuol dire che Se mi colpiscono Mi curano Giusto Ci arrivo fino a là Ok No Brother ma Ok Lo chiudo Lo chiudo Eh niente Chiudiamo un'altra volta Ah non ho la ulti Non è buono Ma cosa state facendo Voi due Velocissimi Preso Tonk Sparato Sparato Pezzo di merda Oh oh Se solo facesse danni magici La W Sarebbe molto più bella Le Irelia Garagas Stop Be afraid You can't die With me Ho capito Ma sempre Si ammazzano te Però Ehi di il problema Caitlyn Oh oh Come gliel'ho doggiata Quella Quella spell Dove sei Maledetta Stronza Malignance Dice Per avere la ulti Più spesso In realtà Me ne frega Il giusto Merda Ecco perché Non tiro nulla Cazzo C'erano solo dei silence Sti qui Lasciate la Uh Bene Non so se il tuo D carry Ne sia Ah cazzo Ho provato a flashare Ma non avevo il flash Se no mi salvavo E la killavo Dovevo zoniare Però Il mio dito Ho premuto D Distinto Vabbè Cosa C'era Volibere Che stava facendo Il solo Baron E Grak Se li ha rubato Vabbè Interessante Vabbè GG 26-5 Abbiamo finito Devo dire Molto dignitoso Mangiato Va bene Dai è andata bene Ripeto Ci è andata bene Con L'avversario Che abbiamo trovato Che era un bidone Bidonissimo Però Grazie Alpakami Non ti avevo visto prima Scusami Grazie mille caro Direi che Onoriamo Soraka Cazzo Ci ha salvato In maniera allucinante E Bene Niente Non match